Hola gringo e come potete vedere siamo su Dark Souls 2 Scholar of the First Scene Vi faccio vedere che siamo al terzo New Game Plus ragazzi E andiamo a sculacciare il persecutore di brutto Tanto per fare qualcosa visto che c'è un caldo bestia Facciamo un mini video mentre vado a sculacciare il persecutore Ok Iniziamo questo Ci ho dropato qualcosa ma non ci interessa Andiamo avanti Ok Uscite chi vuoi A me si fumete Ok Andiamo avanti non ci interessano i drop Proseguiamo Iniziamo questo Giro Boom Ole è andato Ah ho ciccato il perri scusate Ok Adesso vai a casa Ok Bye bye Qui ce n'è un altro Uno Finchio questo è il pastarello Tre colpi addirittura Vabbè siamo sempre al terzo New Game Plus Quindi il boss Ha la vita triplicata ragazzi In testa mi ha preso dai Stavo dicendo il boss ha la vita triplicata quindi Non è facile facile ma essendo io un veterano Di Dark Souls 2 non avrò alcun problema anzi lo sculaccerò di brutto E niente Allora Le regole sono queste Devo batterlo Senza curarmi E senza farmi colpire Ok Non mi posso né curare Né farmi colpire Guardate quanta vita ho Se lui mi tocca Mi uccide E io avrò perso E ho un solo tentativo Comunque vada Il video verrà caricato E niente Vediamo se fare una brutta figura oppure no Questo anello togliamolo Visto che Non ci fa effetto Ho notato Quindi mettiamo l'anello del leone Magari con un contraattacco Riusciamo a togliere più danno E si inizia Ok Vai Harry Uno Due Tre Harry Uno Due Tre Chi va Ok Vieni avanti No Vieni avanti Bravo Harry Vediamo se ci arrivo Eh Non ci sono arrivato Eh vabbè Ok 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 Niente Faremo tutto da noi Ok Vieni avanti Harry Uno Due Tre E lo stiamo con quattro Ed abbiamo vinto Ce l'ho fatta Il primo colpo Eh Non ci ha neppure toccato Un goccio di vita Senza curarci Ci becchiamo al prossimo video Fate i buoni Che fa rima con buone Sì Sì Niente Hay Contole Eh cose Eh